Questa è la commovente storia di Melanie e di Trevor, lei sulla sedia a rotelle e lui non vedente, due amici che insieme hanno superato i loro limiti arrivando a scalare le montagne. Galeotta fu la box, Melanie Knecht e Trevor Hahn si sono conosciuti in Colorado durante una lezione. Un'amicizia nata per caso è oggi documentata sui social con le tante foto tratte dai loro incredibili viaggi. La loro è una storia davvero straordinaria. Lei, trentenne, costretta a vivere su una sedia a rotelle a causa della spina bifida. Lui, quarantenne, cieco per via di un glaucoma. Due deficit a primo acchito invalidanti, ma che non hanno messo a tacere determinazione e voglia di vivere mano nella mano. Quando si sono incontrati per la prima volta, hanno scoperto la passione comune per i viaggi, passione a cui entrambi hanno dimostrato di non voler rinunciare. Prima semplici passeggiate, poi colline ed ora montagne. Le loro imprese, è il caso di dirlo, eroiche, sono documentate su Instagram e sulla pagina Facebook Hiking with Sight. Immagini commoventi che mostrano Trevor portare sulle spalle Melanie in tenta ad indicargli la strada. E proprio guardando questi scatti, suonano ancora più commoventi le parole della giovane donna Io sono i suoi occhi e lui le mie gambe.